Siamo dei peccatori, tutti peccatori, voi, io. Persino il padre conosce in profondità il peccato. È un veleno che ci annebbia la mente. E se vi dicessi che potete liberarvene? Se vi dicessi che i vostri sogni si possono avverare? Se vi dicessi che ogni ostacolo può essere superato con un pensiero, un'idea? Che la libertà dal peccato si attiene attraverso il potere di una semplice parola. Sì, sono un peccatore. Sì, desidero essere liberato. Sì, desidero essere redetto. Se adesso state guardando, sappiate che siete stati selezionati. Verrete purificati e confesserete i peccati. Così vi verrà offerta la redenzione. Non temete. Non c'è niente che dovrete fare. Saremo noi a venire. Benvenuti all'Eden's Gate.